Ecco il punto sull'ecomafia, proveremo a parlare delle varie terre dei fuochi che ci sono in Italia. La terra dei fuochi non è più un luogo centrato. Girando per il mio lavoro, realizzo inchieste per il periodo della sera e il periodo di tutto it, girando per l'Italia mi sono resa conto, seguendo anche il flusso dei rifiuti, mi sono resa conto di come stiamo rovinati. Ho trovato delle terre dei fuochi nel Bresciano, in Mantovano, in Lombardia, in Toscana, perfino in Umbria. E quindi vale la pena un attimo pensarci rispetto a quella che è la gestione dei rifiuti, rispetto a quella che è la gestione delle scorie, rispetto alla gestione delle discariche, cercare di capire chi c'è dietro le società, le scatole cinesi che si accaparrano da riappalti. Vale la pena tenere l'attenzione alta anche sul nuovo business emergenziale, anche questo, delle bonifiche dove quelli che hanno inquinato vorrebbero adesso provare ad entrarci. Grazie.